Volevo invitare sul palco il sindaco Mauro Carturano Cosa ho sbagliato? Carturani? Me l'hanno scritto Carturan? Mauro Carturan, giusto? Mauro Carturan! Mi scusi sindaco, mi hanno scritto Carturano Allora il suo microfono, dov'è il microfono del sindaco, scusate? Grazie Mi deve perdonare sindaco, ma io... Non canta? Neanche sotto la doccia canta? Funziona adesso? Va bene, e volevo anche invitare sul palco la voce ufficiale La voce ufficiale di Radio Antenne RC Tiziana Mammucari Grazie sindaco, grazie Tiziana, io vi lascio la parola Grazie a Benedicta Boccoli, buonasera a tutti, siete tantissimi, grazie per essere qua Allora sindaco, so che lei ha qualcosa da dire, insomma per quanto riguarda auguri e quant'altro Ma anche un sacco di cose da dare forse Chissà Qualcosa Microfono Qualcosa, però aspettiamo, vediamo chi c'è, no? Vediamo chi c'è, chiamiamo, chiamo io, chiamo lei Ho visto un sacco di amici, perché Goldner si è dimenticato una cosa Lui è arrivato a 30 anni con la radio Per sua sfortuna, noi a Radio Sistema